buongiorno a tutti allora 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 concludiamo la nottatona del gigione con il video sui mondiali e purtroppo portogallo marocco portogallo non sono riuscito a vederlo perché dalle 16 alle 18 stavo facendo stavo scrivendo per internet dovevo fare 16 17 15 18 domenica ma hanno cambiato il turno quindi non ho potuto vedere neanche il secondo tempo tra l'altro finito alle 7 meno un quarto quindi ho fatto i numeri d'alta squadra sembravo fantozzi quando ho finito no perché devo prepararmi per uscire comunque il marocco il marocco signori grazie alle parate del portiere ma i portieri sono lì apposta per quello grandi parate del portiere grandi di qua che parate ha fatto il portiere del marocco signori i portieri sono fatti per parare altri sono fatti per andare a farfalle sui cross il gol di elnesiri signori il gol di elnesiri che ha ricordato vi ha ricordato il gol di un attaccantino così che ha fatto solo 209 gol dell'inter che si chiama ancora vivo fortunatamente 60 poco più anni è un classe 55 56 quindi 66 66 67 anni appena compiuti mese scorso che si chiama alessandro altobelli andatevi a vedere torino inter di coppa italia torino inter di coppa italia 1982 colpo di testa di spillo ad anticipare il portiere di uscita e palle in rete ecco il gol di elnesiri mi ha ricordato quel gol lì lui che va in cielo anticipa il portiere in uscita col pugnetto alla goldrake e la palla che termina in rete uguale qualcuno ha detto colpa nel portiere eccetera no è stato bravo l'attaccante ad andare in cielo andate a vedere lo stacco perentorio di elnesiri sul difensore portiere dove è andato a saltare quanto ha saltato manco avesse le bolle e anticipato tutti alla messa e poi dopo il portierino del siviglia se non sbaglio ha parato anche la mamma signori miei il bon bono 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 chiamiamolo bono bono a parare bono a parare ha parato tutto lui ha parato tutto l'altro è andato a farfalle e il signorino che è entrato nella ripresa detto anche fighetta impomatata può tranquillamente andarsene a giocare nei campionati che lo strapagano in cui può giocare anche da ferma ed è più forte di tutti lo stesso incassare tanti bei soldini ma ahimè anche per lui il mondiale finisce qui e questo marocco ragazzi il marocco sta facendo lo stesso mondiale che fece l'italia nel 2006 non sottovalutate questo marocco con questo saiz difensore centrale che non passa nessuno anche se oggi è l'anno sostituito è stato sostituito ma ahimè saix e la cosa è preoccupante perché il marocco signori miei è tanta roba tanta 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 roba vediamo quando è stato sostituito il bon saix saix non è finito non c'è ah eccolo qua ah attenzione al cinquantasettesimo anzi neanche al cinquantacinquesimo quindi tutto il secondo tempo praticamente ha giocato il bon Dani e non l'ha fatto rimpiangere questo questo marocco devo dire che fa della difesa il suo punto di forza e i mondiali ricordatevelo sempre si vincono con una grande difesa prima non prenderle così tu parti da 0 a 0 e arrivi a 0 male che vada finisci a 0 a 0 poi se trovi il golletto risolto il problemetto e questi non prendono gol ragazzi non prendono gol quindi non è facile batterli perché quando incontri una squadra che non gli segni devi stare attento perché se prendi gol sei finito adesso vedremo se la Francia degli Mbappé eccetera riuscirà a combinare qualcosa ma io sinceramente oggi ho visto o meglio ieri ho visto il secondo tempo adesso andremo a parlare anche della Francia Portogallo che ahimè si è trovato davanti il muro difensivo poi quando passava il muro difensivo c'era il portiere che parlava anche la mamma e quando è così non si va da nessuna parte poi prendi il gol sulla paperata tra virgolette perché secondo me diamo merito anche a El Desiri per essere andati in cielo a prendere quel pallone però il portiere di solito dovrebbe alzando le braccina andare più in alto dell'attaccante a riuscire a portargli via la palla invece è uscito in ritardo quello ormai aveva preso il terzo tempo ciao bene quindi Marocco prima squadra semifinalista altra squadra semifinalista o meglio prima squadra semifinalista della parte bassa del tabellone e adesso andiamo a Francia e Inghilterra Francia è in vantaggio come cavolo si chiama lo chiamo TC TC con un missile terra assis di assis scusate il raffreddorino assis di cosa l'assis di Bidin l'ha fatto ieri il signor Messi per Molina che ha fatto il filtrante lì è un passaggio gli ha passato la palla fuori area quella l'ha controllata PEM senza pensarci due volte palla nell'angolo beh cojoni beh cojoni se ci prova altra dieci volte la manda fuori perché praticamente ha preso la palla ha calciato ci provo avete presente ci provo e poi ti viene fuori il golasso e quindi Francia in vantaggio nella ripresa ha giocato solo l'Inghilterra e non ho fatto in tempo a dire azione dell'Inghilterra azione della Francia quando è arrivato il gol di Giroud e gli faccio il mio amico occio che l'Inghilterra sta continuando ad attaccare ad attaccare ad attaccare non trova il gol dopo che è arrivato il pareggio su rigore prima è arrivato il pareggio su rigore poi l'Inghilterra ha insistito perché la Francia era se mi permettete il termine un po' groggi non se l'aspettava e quindi l'Inghilterra sulle ali dell'entusiasmo attacca 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 colpo di testa di Beguare tiro debole di quello tiro debole di quell'altro altra occasione palla fuori eccetera eccetera prima occasione della Francia cross da sinistra Giroud in mezzo a tre difensori che lo guardano con Beguare che ci prova ad anticiparlo ma con un quarto d'ora di ritardo e Giroud di testa tracate e poi siamo arrivati all'epilogo perché cinque minuti dopo il gol della Francia dopo calcio di rigore dato dal VAR ma c'è bisogno di andare al VAR cioè è vero che l'attaccante dell'Inghilterra quella palla non l'avrebbe mai presa ma quello gli è andato addosso secco non puoi considerarlo una i milanissi diranno che no ma è andato di spalla e ho capito vado di spalla PEM modello Caterpillar ma sono andato di spalla eh fa niente se ho preso la rincorsa col salto modello come quando si pogava in discoteca che noi ai tempi tanti anni fa non io i miei amici sceglievano l'olandese sfigato che era lì a ballare però uno partiva da una parte della discoteca l'altro dall'altra si trovavano in mezzo gli andavano addosso facevano un bel sandwich di olandese e l'olandese andava per terra quello era il pugone ecco il buon Teo Hernandez fa uguale parte PEM di spalla con rincorsa eccetera gomitatona sulla schiena ma sono andato di spalla mica è un fallo eh ti ho buttato fuori dal campo ma io sono andato di spalla con rincorsa ma di spalla io francamente ve l'ho già detto Teo Hernandez è riuscito a farmi riesce a farmi odiare meno Quadrado perché odio di più lui che Quadrado Quadrado mi sta sui testi ma lui è riuscito a fare ancora peggio insopportabile proprio un giocatore insopportabile però per il Milanissi è un grande giocatore per forza può entrare come cazzo vuole e non gli fischiano niente come gioca fuori dall'Italia gli fischiano tutto e gli è andata bene che il giocatore dell'Inghilterra non aveva la palla perché sennò era rosso diretto col fatto che non era in possesso di palla gli ha dato solo il giallo però un fallo stupidissimo non avrebbe mai preso quel pallone lì gli ha dato lì pam e l'arbitro prima ha lasciato correre poi rivedendolo c'era ma credo che lo manderanno a rivedere due secondi rigore e Kane fa lo tiro io in rigore ne ho segnato uno faccio doppietta gli è già arrivata la letterina dalla dalla Lega Ambiente per aver inseccato l'ennesimo povero piccione che era lì che svolazzava tra le tribune del del Qatar e ragazzi miei continuano ad asseccare i poveri piccioni che sono lì a guardarsi la partita vengono beccati da stiri terraria che finiscono al terzo anello se c'è e quindi uccidono il piccione e anche Kane arriverà la letterina hai ucciso il piccione devi pagare e dare l'obulo alla protezione animali e quindi lì è finita la partita e adesso volate tra l'altro il gufo gufone malefico del barista fa e tanto lo sbaglia l'abbiamo guardato tutti malissimo perché naturalmente sceglievamo il male minore no? perché a tutti la Francia sta sui testi non che l'Inghilterra ci sia particolarmente simpatica ci mancherà però tra Inghilterra e Francia ve l'ho detto è un po' come tra Milano e Juve quando uno mi chiede Gigi c'è Milano e Juve che risposta vuoi che dia purtroppo non posso perdere tutte e due come diceva anche il grande Peppino Prisco è uguale Francia Inghilterra per me passa chi deve però se passava l'Inghilterra ero più contento anche perché un'Inghilterra Marocco è giocabile Francia Marocco non è giocabile perché sarà un arbitraggio a senso unico perché il sogno dei Quatarioti è una finale Francia-Argentina e penso anche che sia la finale che tutti i tifosi vorrebbero perché un Francia-Croazia Marocco Marocco-Argentina Marocco-Croazia mi sa che non è che la vedono di buon occhio viceversa un Francia-Argentina sarebbe la rivincita degli ottavi di finale del 2018 sarebbe anche un inedito perché penso che Francia-Argentina in finale non si siano mai affrontate e teoricamente potrebbe essere anche una sfida tra il pallone d'oro degli ultimi 15 anni Messi sul viale del tramonto e la nuova stellina Mbappé che dovrebbe teoricamente brillare e giocarsi il pallone d'oro col suo compagno di squadra Nerman e Oland quando non ci sono però mondiali o europei perché voi capite che giocare nella nazionale norvegese il mondiale o l'europeo non lo vinci viceversa giochi nella nazionale francese è già un bel 50% di probabilità di vincere o l'europeo o il mondiale o addirittura entrambe più quello che puoi vincere nel PSG anche se nonostante i soldi spesi nonostante una super squadrona il PSG per ora in Champions ha fatto pochino è riuscito forse a fare una finale ma l'ha persa e poi per il resto poca Roma se non erro non so se è arrivato mi sembra che sia arrivato in finale comunque ragazzoni niente abbiamo la seconda semifinale Argentina Croazia è la prima Francia Marocco è la seconda che dire sulla carta ragazzi Argentina Francia però il Marocco ieri sera contro il Portogallo era dato a 6 6 e 10 a essere precisi e 1 e 67 il Portogallo e ha vinto il Marocco quindi il pallone rotondo e tutto può accadere ma lo stesso valeva per Brasile e Croazia addirittura il Brasile era forse dato sotto l'1 e 50 la Croazia era data a 7 e 8 e alla fine è passata la Croazia parlo però di pronostico l'1 x 2 poi passaggio del turno a Croazia non lo so quanto era quotato in ogni caso c'è il mio amico pizzaiolo che ha fatto la giocata folle se succede fa il botto se succede fa il botto detto questo ci vediamo alla prossima adesso basta partite ahimè adesso andate in astinenza in crisi d'astinenza eccetera perché non si gioca più fino alle semifinali che sono martedì alle 20 argentina Croazia e mercoledì sempre alle 20 Francia Marocco naturalmente ora italiana poi avremo la finale terzo e quarto posto bellissima perché è sempre bellissima la finale terzo e quarto posto alle 4 nel pomeriggio di sabato e la finalissima sempre ma si può fare la finale di una competizione mondiale alle 4 nel pomeriggio no non me la posso neanche manco vedere perché dovrò scrivere eh sì devo scrivere per interline eh sì 15-18 quindi io la finale non la vedo perché questi me la fanno alle 4 del pomeriggio ma si può ma come state ma non ho parole non ho veramente parole vabbè la vedrò indifferita amén ragasoli io vi saluto vi ringrazio e naturalmente ci vediamo alla prossima nella giornata di domani ho interlive poi lunedì potrò dedicarmi finalmente un po' dallo sci domedica notte potrò dedicarmi un po' di sci così recuperiamo un po' di gare di settimana scorsa della settimana prima perché nel weekend si è corso cioè si è corso si è disceso visto che si parla di sci e ci sono anche delle belle notiziole da dare però devo andare per ordine piano piano facciamo tutto il gigione facendo sempre tutto magari un po' lento ma il suo lo fa sempre ma d'altronde io quando devo vedere lo sci devo vederla prima manche farmi il riepiloghino ma vederla volendo potrei anche non vederla e farmi il riepiloghino piace gustarmela con calma vedermela ci metto le mie tre ore tre ore e mezza per vedere tutto perché tra prima e seconda manche un paio d'ore minimo ci vuole poi devo scrivere eccetera quindi due ore due ore e mezza ci vogliono tutte però mi gusto le discese delle pulzelle che poi sono anche un bel vedere mi gusto le discese dei maschietti che sono solo da vedere come scendono perché è un piacere vederli sciare poi per il resto non me ne può fare grande meno tutti sti barboni eccetera con sta barba lunga non ce n'è uno bello liscio eccetera tutti sta barba neanche fossero vabbè lasciamo perdere però ormai va di moda no? poi c'è anche sta barzelletta poi concludo sta specie di barzelletta ho visto un rils c'era un signore con la barba un ragazzo un uomo un obino un obino non era un uomo ma non era più un ragazzino un giovane con questa bella barba curata e una ragazza lo vede e fa oh ma che bella barba uh che bella mi piace la posso toccare guardi la pago se mi fa toccare la sua barba e gli fa no guardi non c'è bisogno ci mancherebbe ma visto che gli dice così facciamo così io le faccio toccare la mia barba e lei mi fa toccare la sua barba signora non capisce fa la sua barba va bene dai andiamo ad appartarci lì del giardinetto lei inizia a toccargli la barba no la carezza eccetera dopo 5 minuti fa bene adesso tocca a me infila la manina lì dove non batte il sole e inizia a toccare no la barba di sotto della dottina della ragazza e a un certo punto la ragazza per uno schiaffone e lui ci rimane male e dice ma signorina scusi eravamo d'accordo no io le ho fatto toccare la mia barba e lei mi ha fatto toccare la sua e lei gli risponde sì ma io non le ho messo un dito in bocca penso che la capiate ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao